Il campo nomadi di Via Dolomiti a San Martino di Lupari è stato sgombrato, un'operazione che ha impegnato carabinieri, polizia, vigili urbani e vigili del fuoco e che ha comportato la chiusura temporanea di alcune strade. Nel campo si trovavano 5 roulotte con 11 persone e 3 furgoni, per il sindaco Gerry Boratto una lottizzazione abusiva. Acquistato come terreno agricolo nel 2013, il campo era stato espropriato dal comune nel 2016 avviando le pratiche per lo sgombero, decisione impugnata senza successo dai proprietari del terreno al Tar. Due roulotte, escortate dai vigili di San Martino, sono arrivate non senza polemiche nelle case Ater di Via Bindoni a Treviso.